Sei un costruttore e vorresti risparmiare su mano d'opera, operai, logistica e materiali? Rispettando sempre i tempi concordati col cliente finale? Sai che esiste un sistema brevettato per costruire pareti isolate, portanti o pareti con strutture integrate che sta rivoluzionando l'industria del settore? Giorgio è un muratore intento a costruire le pareti di una palazzina con i classici mattoni. La sua ditta ha portato 5 camion, ha dovuto pagare per l'occupazione del solo pubblico e lo scarico è stato lungo e faticoso, senza contare quanti mattoni si sono rotti. E come se non bastasse, sono in ritardo con i lavori. Sandro, invece, è il muratore di un'impresa che utilizza Monolito, il rivoluzionario sistema per costruire pareti. L'impresa di Sandro è arrivata con un solo camion e non ha sprecato tempo e fatica per scaricare i materiali e portarli ai piani. Dopo un paio d'ore ha terminato la parete e può raggiungere un altro cantiere. Rispetto al suo collega, lavora più rapidamente, non rischia di commettere errori nella costruzione, gestisce al meglio lo spazio in cantiere e utilizza tutti i materiali. Tutto merito di Monolito, il sistema brevettato, modulare, veloce ed intuitivo nell'installazione. Monolito è versatile perché si presta ad essere riempito con i più svariati materiali in base alle prestazioni richieste. Gli impianti elettrici e idraulici vengono fatti passare all'interno di Monolito prima del getto del materiale di riempimento, evitando di rompere il muro per passare gli impianti. Inoltre, il nostro sistema, restando inglobato all'interno della parete, collabora con i vari materiali di riempimento a renderla più elastica e quindi antisismica. Non necessita di mano d'opera specializzata e il sistema ad incastro rende impossibili gli errori in fase di costruzione. Monolito è un prodotto certificato, si adatta a qualsiasi normativa ed è 100% ecosostenibile. Soddisfa i tuoi clienti realizzando pareti ad alte prestazioni e risparmia su mano d'opera, operai, logistica e materiali. Clicca qui sotto per richiedere maggiori informazioni.